al nuovo stadio Ferraris in isolamento. Carlos Aguilera Nova, 24 anni, detto Elpato, l'anatroccolo per la sua struttura fisica e gesti agonistici, è accusato di favoreggiamento della prostituzione. I magistrati inquirenti lo interrogeranno domani mattina alle 9, ultimo dei 15 colpiti da ordine di arresto ieri, alcuni sono latitanti. Degli altri 14, 12 sono uruguayani e 2 argentini e per tutti, a differenza di Aguilera, l'accusa è ben più grave, associazione delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Durante le perquisizioni, in casa di tre di loro, sono state sequestrate due pistole con numero di matricola a braso e una pistola a giocattolo. Dopo sette mesi di indagini, la polizia, guidata dal commissario Gaspare Paiella, ha inviato ai giudici un lungo rapporto che delinea un giro di prostituzione molto vasto tra Uruguay e Italia. Genova era il centro di smistamento, ragazze uruguayane, in genere ragazze madri, venivano spedite in Italia col miraggio di un lavoro facile e quindi messe nel giro della prostituzione che toccava sì qualche albergo di lusso, ma in prevalenza le compiacenti pensioni del centro storico, guadagno anche un milione al giorno. Una storia non nuova, soprattutto a Genova, solo che questa volta c'è di mezzo un insospettabile come un calciatore ricco e famoso, centravanti della nazionale uruguayana con decine di gol all'attivo, l'ultimo mercoledì durante l'amichevole Germania Ovest Uruguay e del Genoa, i cui tifosi ne avevano fatto subito un piccolo idolo. Sposato, padre di due bambini, un terzo in arrivo, Aguilera era lo spirito allegro del gruppo, considerato tutto casa e calcio. I suoi avvocati difensori, che domani ne chiederanno la scarcerazione, sostengono la tesi della buona fede. Conosceva molta gente, soprattutto con nazionali in Italia, era un tipo disponibile, forse troppo, anche con gente da starci alla larga. Può essere stato utilizzato a sua insaputa. Il giudice dice che lo hanno arrestato per evitare il rischio di inquinamento delle prove. Appena questo rischio verrà meno, potranno anche liberarlo, anche se le indagini non trascurano altre piste, oltre quella della prostituzione. Infatti, alcuni degli arrestati hanno precedenti penali anche per traffico di cocaina. Difficile, però, francamente, ipotizzare se la liberazione potrà avvenire prima di domenica e se per l'ultima decisiva partita del Genoa con Lascoli, Aguilera sarà in campo.